È stata una seduta che dal primo momento è iniziata con un dibattito in arendo, un atto deliberativo molto importante per la città. Era un atto deliberativo che prevede l'acquisto di nuovi 14 mezzi dello SMA, 14 mezzi che dovrebbero integrare e in parte sostituire anche questi mezzi obissoleti del servizio municipalizzato, che trasporta bambini, trasporta alunni delle scuole, trasporta anziani e che oggi è in una condizione assolutamente pietosa. Sono contento, lo dico qua, l'ho manifestato oggi nella seduta anche consigliare, ho ringraziato i colleghi consiglieri che con grande senso di responsabilità, quando poi magari bisogna ritrovarsi attorno ai contenuti ci si ritrova. Un atto deliberativo che viene approvato all'unanimità con 19 voti favorevoli su 19 presenti è un atto molto significativo. Quindi ci auguriamo che prima possibile venga rinnovato questo parco mezzi, anche perché se la città ritiene, e io sono convinto, che dovrebbe investire sul turismo, significa anche offrire servizi ai turisti che arrivano in città. Sicuramente in questi anni non abbiamo dato della bella immagine della nostra città, quando abbiamo mezzi sporchi, obbissoleti, privi di aria condizionata, dove non viene spesso nemmeno rispettato gli orari, se i orari vengono pubblicizzati, perché anche questo abbiamo affrontato e discusso direttamente col dirigente Navola. Anche lì poi sarà fatto un ulteriore incontro-confronto e anche proposte saranno portate al vaglio del dirigente, perché ritengo che una città che vuole investire sulla propria immagine e offrire servizi bisogna dare innanzitutto la certezza del servizio e la qualità del servizio. Poi mi preme ringraziare in modo particolare i miei colleghi consiglieri che hanno votato anche un emendamento presentato dal sottoscritto, ma è stato già condiviso anche da diversi consiglieri, sull'acquisto di nuovi tre mezzi relativamente al servizio di trasporto bambini disabili e soggetti disabili. Soggetti che oggi necessitano di continua cura e di continua attenzione e che purtroppo con la carenza di mezzi che avevamo, ma soprattutto con mezzi molto vecchi che necessitano di continua manutenzione, spesso rimangono a casa con tutti i disagi per loro e anche per le proprie famiglie. Quindi è stato votato anche lì all'unanimità l'emendamento e ci auguriamo che il prima possibile si possa procedere con l'emanazione di questo bando di acquisto e quindi dare alla città e ai suoi cittadini questi servizi che attendiamo da parecchio tempo.